oggi consegna della twist elettrica mi piace moltissimo penso di utilizzare l'auto soprattutto per girare in centro per il lavoro qualche giretto fuori città penso di portare mio figlio in tutti i suoi impegni sportivi abbiamo già visto che ci sta benissimo dentro quindi la sfrutteremo al massimo per ora non ho in mente nessun svantaggio l'unico che i pedoni non ti sentono essendo silenziosa bisogna fare attenzione perché ho notato che non ti sentono primo giro direi fantastico esperienza positiva speriamo anche che continui così